Buongiorno e benvenuti a Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Family Casa, la trasmissione di Telefriuli che appunto si concentra sulle tematiche dedicate al mondo dell'abitazione con varie sfaccettature. Oggi parliamo di sicurezza ma cerchiamo di farlo in una maniera più ampia perché non si parla solo di sistemi antintrusione e di allarmi ma di sicurezza più generale della persona. Vedremo come, se avete domande o spunti e riflessioni potete chiamarci in diretta al numero 0432 573517 però potete mandare anche un sms o un whatsapp al 345 99 56897. Per parlare appunto di sicurezza della persona abbiamo due ospiti, Massimiliano Magon che è security manager di Talpol e Carlo Alberto Magon che invece è l'amministratore delegato della stessa società. Faccio la domanda a entrambi, poi insomma a chi vuole rispondere. Abbiamo detto che ampliamo il concetto di sicurezza, non si parla solo di sicurezza dell'abitazione ma della persona. In cosa consiste questo concetto? Il concetto è praticamente un'evoluzione di quello da cui si sta assistendo in questi ultimi anni per cui la sicurezza che prima veniva garantita all'interno della propria abitazione o attività commerciale ha avuto uno sviluppo per cui prima si è passati su dei sistemi che garantiscono al di là di impedire l'ingresso o segnalare l'ingresso in caso di furti ci sono dei sistemi che io posso utilizzare dei telecomandi, dei tasti che all'interno della mia abitazione mi danno delle segnalazioni per avere dei vari tipi di supporti. Da qui è nato il telesoccorso che è un servizio dedicato a chi ha magari problemi di deambulazione o soprattutto per gli anziani per poi arrivare alla richiesta di intervento di personale di istituti di vigilanza come il nostro o richieste di anti-aggressione. Da qui c'è stato lo sviluppo poi per portare questi sistemi anche al di fuori dell'abitazione e dell'attività commerciale per cui abbiamo sistemi di ultima generazione che ci accompagnano anche fuori dalle nostre attività. Quindi insomma si tratta di integrare un po' vari ambiti appunto dalla sicurezza, anti-intrusione e anche col discorso del telesoccorso è possibile integrare tutto, quindi tutto in un unico sistema che funziona quando ho bisogno, insomma so chi chiamare quando ho bisogno. Questo è un po' il concetto? Sì, questo è il concetto. Diciamo che io sviluppo il telesoccorso nella mia abitazione utilizzando il sistema che ho fisso e quindi se ho dei problemi schiaccio, per spiegare come funziona, schiaccio un semplice tasto, questo mi mette in contatto con una centrale operativa dove c'è un operatore che ha tutti i miei dati, interagisce e quindi sa dove mi trovo e quali possono essere le mie esigenze e invia o i soccorsi o quello di cui si ha bisogno, a cui vengono abbinati tutta una serie di altri servizi. C'è anche la classica anti-aggressione, per cui se invece ho dei ladri che cercano di accedere alla mia attività posso nello stesso modo mandare questa segnalazione, per cui non è più un problema di salute ma un problema di furti o quant'altro. Ecco, qua vediamo in questa grafica una serie di possibilità, penso, allarme panico SOS, la centrale operativa, quindi quali sono poi le voci e le categorie a cui posso accedere attraverso questi sistemi integrati? Chiedo a lei. Sì, ecco, qui nello specifico stiamo guardando la schermata, una delle schermate della nostra app per telefoni Android e iOS. Nello specifico questa app permette varie funzioni, sicuramente la più importante, la più immediata è il cosiddetto tasto panico SOS, no? Quindi, semplicemente schiacciando quelli con Cina, che poi in realtà è molto più grande nel momento in cui si apre il telefono, parte una segnalazione GPS alla nostra centrale operativa, ed è qui che parliamo del famoso apparato che si può usare sia in casa che fuori, no? Quindi durante una camminata, piuttosto che un giro con la famiglia, piuttosto che da soli, piuttosto che quello che è, insomma. È molto semplice, intuitiva, si schiaccia il tasto, parte una sorta di segnalazione, una stringa, una segnalazione che arriva alla centrale, vengono inviati i soccorsi, sia nostri che forze dell'ordine, e interveniamo. È chiaro che può essere un malore come può essere un'aggressione, quindi in questo caso si parla sia di safety che di security, quindi sia di un problema di sicurezza legato ad un'aggressione, sia un problema di sicurezza perché appunto mi sono fatto male, mi sono perso, o quello che insomma ritengo più opportuno. Il personale che risponde a queste chiamate, chi è, com'è formato? Beh, sicuramente è importante molto guardare questo lato della medaglia, perché? Perché comunque rispondo a una centrale operativa che è sul territorio, che conosce il territorio, che capisce quali sono le difficoltà di questo territorio, perché una centrale operativa che si trova a Roma non può conoscere le difficoltà del Friuli, del Friuli Venezia Giulia, della diversità che può esserci tra il Carso e il Mare o Tarvisio. Sono comunque persone abilitate con corsi di primo soccorso, di antincendio, di sicurezza di vario tipo e genere, quindi riescono a capire quali possono essere le problematiche, soprattutto come interagire con le persone, soprattutto in situazioni di panico, perché sappiamo che questo vale per noi, come per le centrali operative delle Forze dell'Ordine, a questo punto la centrale unica di Palmanova, è fondamentale riuscire a interagire, tenere calme con queste persone, dare delle istruzioni molto chiare, perché le persone in quel momento vanno in tilt, pensano che i secondi diventino ore e soprattutto perdono anche quella capacità che è normalmente insita in chiunque di fare delle cose facendo magari degli errori clamorosi. Insomma il panico è quello che ti paralizza e ti altera un po' la percezione, quindi insomma voi o gli operatori vostri gestiscono prima quell'emergenza e poi un'altra... che appunto può essere un'emergenza a livello sia di sicurezza intesa come aggressione, sia a livello di appunto magari una persona anziana che magari non è del tutto abile o non è magari del tutto nelle sue diciamo capacità, ecco, quindi anche questo è importante, no? Beh certo, voi avete un... cioè conoscete un po' le persone che hanno scaricato questa app, avete un profilo di... Sì, ecco, diciamo che la particolarità della nostra app è proprio questa, non si va sull'Apple Store piuttosto che sull'omonimo della Samsung per scaricarla e basta. Comunque deve nascere un rapporto prima con noi perché dobbiamo avere dei dati che altrimenti non renderebbero il servizio efficiente, no? Sì, personalizzato diciamo. Sì, non è un'app qualsiasi, ecco, è un'app un po' particolare, ecco, da questo punto di vista... Faccio un'altra domanda, forse un po' da punto di vista appunto dell'uomo della strada e del cittadino comune. Per avere questa app devo avere anche tutto il sistema d'allarme integrato, eccetera, oppure ci sono vari step e io posso accedere a una parte, a una sezione sola, piuttosto che a tutto il pacchetto, diciamo? Ma allora in questo caso l'app può essere... io posso avere anche solo l'app, quindi diciamo che la complessità dell'app nasce per poter gestire anche tutti quelli che sono i servizi che io ho ulteriori con, nel caso specifico con la nostra azienda, quindi con Italpol, che può essere o l'impianto d'allarme o altri servizi di vigilanza. Ma l'app può essere acquisita anche singolarmente e quindi si può utilizzare comunque questo servizio SOS anche a sé stante. Quindi insomma io mi rivolgo a voi, vi telefono, prendo appuntamento e poi andiamo a costruire un po' questo rapporto di cui parlava... Certo, infatti la particolarità è che questo è un rapporto dedicato per cui noi non si fa diciamo il modulo online o lo scarico online inserendo solo nome e cognome, noi abbiamo necessità di acquisire informazioni, si ha un rapporto contrattuale, noi rispondiamo di quello che garantiamo anche contrattualmente, ma nello stesso tempo abbiamo una serie di informazioni aggiuntive che ci aiutano a far capire quale potrebbe essere il rischio e soprattutto le persone da contattare perché poi oltre all'emergenza da gestire ci sono eventuali persone da contattare o procedure particolari da sviluppare, ecco, questo è un telesoccorso. Ecco, un telesoccorso più classico, magari dopo ne parliamo un po' più approfonditamente. Finisco il discorso dell'applicazione. Io appunto, cittadino, mi rivolgo a voi e ho tutto il pacchetto completo, quindi non so, ho bisogno di... ho paura che ci sia un ladro in casa, posso premere il tasto SOS così come mi faccio male, eccetera, oppure posso, se sono magari una persona anziana con specifiche difficoltà, posso chiedere una parte del servizio e basta. Non so se mi sono spiegata. Sì, beh, diciamo che noi, il servizio che noi eroghiamo è già nella sua complessità e per fare, voglio dire, le battute che si facevano una volta, diciamo, vendono un caffè al giorno, non è... non si tratta di importi ben più bassi. Poi, uno può utilizzare quello che gli interessa. Poi è chiaro che questo tipo di app ha il vantaggio rispetto ad altri sistemi che nasce sul nostro telefono, per cui non devo abituarmi a sistemi diversi. Ci sono magari anche esige, magari, siccome lei ha fatto l'esempio della persona anziana, magari la persona anziana non vuole avere o non ha un telefono touch, quindi non scarica l'app e magari acquisisce un sistema diverso, che ha capacità diverse e magari è più semplice da quel punto di vista. Meccanico diciamo. E ha altre peculiarità. Però, insomma, risponde lo stesso. Assolutamente sì. Nelle zone, facevate prima riferimento a magari escursioni, eccetera, visto che soprattutto quest'estate in montagna si sono smarite diverse persone, ci sono state una serie di incidenti. Anche nelle zone dove la ricezione del segnale telefonico non è buonissima, l'app può funzionare? Allora, diciamo che noi, l'app funziona sul nostro telefono, quindi utilizza le coperture del nostro sistema, nel nostro gestore. Ci sono poi dei sistemi per un livello di sicurezza ulteriore che invece utilizzano il nostro gestore. Noi abbiamo degli accordi con un gestore, il primario gestore nazionale, che ci consente di operare su roaming e su linee dedicate, per cui sceglie, diciamo, dove c'è la copertura migliore. L'app comunque lavora su un piano di invio e ricezione dati, quindi basta una copertura minima e la segnalazione arriva. Certo, è un livello iniziale, per cui se non ho, se ho totale assenza di campo... Una famosa grotta è un po' più difficile, quello è un po' più difficile. Però anche qui, se io ad esempio sono uno speleologo, facciamo l'esempio, posso, avendo questo contatto diretto con noi, posso prevedere che l'app ha una gestione diversa, per cui io entro in grotta, mando la segnalazione, ho un contatore, se entro un'ora, due ore, tre ore, non mando l'ulteriore segnalazione, il primo invio diventa operativo, per cui noi sappiamo che sono entrato in grotta e non ho dato l'esito positivo, è attivo. Questa è la particolarità, posso personalizzare il servizio. Ecco, dopo la... adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma dopo lei mi ha provocato naturalmente sul tema dei costi, che andrò a chiedervi più tardi, in qualche istante, dopo una piccola pausa pubblicitaria. Bentornati a Family Casa, stiamo parlando appunto di sicurezza della persona in casa e fuori casa, lo stiamo facendo con Massimiliano Magon e Carlo Alberto Magon, che sono rispettivamente security manager e amministratore delegato di Italpol. avevamo lasciato in sospeso, abbiamo parlato dell'app sul telefono, ma avevamo lasciato in sospeso il discorso del costo di questo servizio. È un servizio molto semplice, un'icona sul telefonino permette di chiamare un sms e permette di coprire diverse situazioni di emergenza, abbiamo detto, dal malore all'intrusione di strane in casa, eccetera. Un servizio di questo tipo quanto può costare? Ma allora, parlare di prezzi è sempre un po'… diciamo che comunque per dare un'indicazione… Sì, lo so che non volete. Noia. Però allora, per dare un'indicazione, ma poi darò un'altra indicazione che forse è ancora più positiva, qui sulla app, così come nasce, parliamo di una cifra intorno ai 5 euro al mese. Purtroppo, e questo lo dobbiamo ricordare, il nostro settore non ha grandi supporti da questo punto di vista, per cui per il privato cittadino a questa cifra bisogna aggiungere l'IVA che diventa un costo che si aggiunge. Però, insomma, 5 più 22% di IVA. Affronta appunto di un anziano solo e di una situazione del genere, forse è un costo più che affrontabile, no? Anche molto utile. Sì, questo è l'importo di partenza dell'app, come abbiamo visto prima, caricata sul nostro telefono, ricordando che anche questo è un servizio che può usufruire dei contributi statali, quindi posso anche avere questo tipo di incentivo. Poi da qui ovviamente si può salire. Beh certo, insomma, a seconda del sistema. Questa è, diciamo, l'attuale. La notizia è che in realtà, siccome stiamo vedendo che c'è abbastanza adesione su questo tipo di servizio che stiamo dando, molto probabilmente andremo un attimino a rivedere il target e quindi entro l'anno forse questi costi diminuiranno ulteriormente, però diciamo che riteniamo che siano comunque sostenibili. È vero che magari si pensa sempre di non aver bisogno, ma nel momento in cui, ma anche sempre, voglio dire, senza entrare troppo nello specifico del rischio altro, io buco una gomma e mi trovo in un posto oppure esco di strada senza farmi male, senza fare nulla, non so dove sono per dare delle indicazioni, perché non mi trovo in Friuli, mi trovo magari in una regione che non conosco, tramite questo tasto ho il contatto con la nostra gestione operativa che ci aiuta e ci supporta, insomma. Quindi anche solo questo è un vantaggio. Sono tante le situazioni appunto di emergenza, anche non dovendo pensare a tragedie appunto, ma situazioni spiacevoli o difficili da affrontare che magari uno da solo soprattutto non riesce. Sì, diciamo che qui al di là della sicurezza, della safety, della security, c'è anche il vantaggio diciamo di avere un contatto diciamo umano, non è che risponde un amico, però un contatto umano di qualcuno che in caso di bisogno può aiutarci a gestire alcune situazioni. E anche il personale è formato appunto a mantenere la calma, come diceva lei prima. Sì, e ricordiamoci che poi oltre ad essere formato, questo è personale tutto inquadrato come guardia giurata. Quindi siccome c'è anche il problema in alcuni casi, ma io sto dando i miei dati e altri, in questo caso si dà a persone che hanno delle autorizzazioni rilasciate non da noi, ma dal Ministero dell'Interno. Qui vediamo mi pare la centrale operativa, diciamo. Sì, quella era una delle nostre centrali, sì. Ok. Invece prima avevamo visto un macchinario che forse è più consono alle persone anziane, perché l'app come abbiamo detto è forse più per le nuove generazioni, molti anziani non hanno il telefonino smartphone, eccetera. Però molte persone invece più anziane hanno dimestichezza con il telesoccorso. E qui ne vediamo uno appunto anche con tutte le caratteristiche. Mi pare immediata la fruizione, no? C'è Campanello, ma ce lo spiega lei. Sì, è molto semplice, molto intuitivo. In realtà questo può valere sia per le persone anziane, ma per chiunque in realtà è più semplice, perché chiaramente viene utilizzato all'interno di un locale, che poi sia un'abitazione, un'attività commerciale poco cambia. è molto semplice, come si vede. È un tasto rosso, in cui è chiaro che rosso vuol dire emergenza, quindi che sia una rapina o che sia un infarto o un malore di qualche tipo, ma in realtà poi ci sono anche altri tasti, come vedete. Quindi ad esempio una semplice chiamata immediata, diretta, appunto con una centrale operativa, no? Perché magari si è sentito un rumore in giardino, non si è certi di avere l'intruso, ma magari si richiede un supporto. Magari ci si sta per sentire male, ma non è una cosa così grave e si richiede appunto un intervento di qualche tipo. Magari ci sono delle procedure specifiche concordate con il cliente che prevedono l'alert di parenti, amici o quello che è. Quindi questo può essere, in realtà sembra più grande di quello che è in questa immagine. Non è molto grande, quindi in realtà non è un grande bussulotto, diciamo, da tenere. È abbastanza piccolino, sì, insomma, dimensioni accettabili. È molto intuitivo, come vedete. È necessito di un sistema particolare, un impianto elettrico piuttosto che di telefono integrato? Chiaramente in questo caso sì, deve essere c'è alimentazione elettrica, viene interfacciato appunto con l'impianto elettrico di casa, invierà poi la segnalazione tramite una linea telefonica piuttosto che una linea GPRS, piuttosto che una linea internet a seconda del tipo di collegamento previsto e basta. Quindi insomma anche per installarlo vengono dei vostri tecnici o devo chiamare io l'elettricista? No, in realtà può venire un nostro tecnico, è una cosa molto veloce, un paio di ore viene installato senza fare danni. Sì, non necessito di particolari lavori, eccetera. No, 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 assolutamente. Abbiamo fatto, facevamo cenno poi durante la pausa, anche per questo tipo di sistemi d'allarme si può accedere ai contributi regionali, comunali previsti proprio per chi installa impianti di sicurezza oppure questi sono al di fuori? Allora, diciamo che sui contributi regionali, che purtroppo tra l'altro adesso sono scaduti, questi sono al di fuori nel momento in cui sono a sé stanti e parlano della sicurezza solo alla persona, mentre i contributi erano sulla sicurezza diciamo fisica, antintrusione, ma nel momento in cui sono integrati a un impianto antintrusione ovviamente sono finanziabili. Diventano finanziabili rispetto a una normativa nazionale che finanzia i contratti stipulati con istituti di vigilanza, quindi siccome se il servizio viene fornito all'istituto di vigilanza da quel punto di vista è finanziabile. Poi in base ai momenti bisogna sempre, noi tra l'altro abbiamo investito abbastanza su una pagina del nostro sito proprio delle convenzioni, perché nascono ogni giorno possibilità nuove. L'importante è anche cercare questo, avere questo come consiglio, perché alcune volte ci si rende conto, come dicevamo altre volte, che l'investimento che io faccio non dico che può essere restituito al 100%, ma è una parte importante. Una bella parte. Tra l'altro voi fornite anche questo tipo di informazioni, penso se uno viene da voi a parlare di questi sistemi. Insomma, accompagnate un po' il cliente nella cosiddetta giungla della burocrazia, chiamiamola così, ma in questo caso aiuta perché sono contributi. Prego. Sì, ecco, appunto come anticipava mio fratello, noi abbiamo proprio una pagina intera sul nostro sito internet in cui, ad esempio, fino a poco tempo fa ogni comune faceva uscire il suo bando in cui diamo istruzioni, in cui diamo i contatti, riprendiamo il bando, riprendiamo i link dei siti dei comuni, abbiamo i nostri commerciali, i nostri consulenti, i nostri agenti tutti informati su questo, quindi più di così credo che non possiamo fare. Ci siamo quasi sostituiti alla pubblica amministrazione come organo di marketing per le loro... E di informazioni, certo. Beh, ma ci vuole purtroppo sempre più spesso un intermediario che sappia interpretare, appunto orientarsi. Parlavamo anche di altri sistemi, dal telesoccorso e l'app, ma ci sono anche altre vie per il soccorso alla persona, diciamo. Ecco, diciamo che c'è una sorta di via di mezzo tra l'app, che appunto è sul telefonino, è il telesoccorso che abbiamo visto prima, che è in abitazione o in negozio, che è il nostro cosiddetto personal telecol, che è una sorta di telecomandino, grande come un telecomando di un cancello, fondamentalmente, eccolo, vediamo. È bianco, ha una clip, quindi si può attaccare alla cintura, si può attaccare a una borsa, all'interno di una giacca, dove uno ritiene più opportuno. Come vedete, qui ci sono due tasti e un microfono. Allora, il tasto bordato di rosso, che è quello centrale, tondo, è il tasto di emergenza, no? Quindi viene schiacciato, la persona che lo schiaccia viene geolocalizzata, quindi se lo può usare ovunque, sul territorio nazionale, e vengono inviati i soccorsi. L'allarma è silente, quindi in caso di aggressione nessuno percepisce che io ho schiacciato questo telecomando, anche perché una persona non adatta ai lavori, difficilmente capisce che questo è quello che è in realtà. Al di sopra di quello, poco sotto al microfono, vedete un click, un altro tasto. Sì. Quel tasto è quello di cui si parlava prima, è la possibilità di poter preimpostare un numero, che è una semplice chiamata fondamentalmente, quindi può essere il numero di mia madre, di mia figlia, di mia nonna, di mio zio, di chiunque, e quindi io lo schiaccio, in questo caso non si genera un allarme, semplicemente parto una telefonata e, appunto, magari il genitor l'anziano chiama la figlia o magari il ragazzino chiama il genitore e parto una telefonata, può essere utilizzato come telefono. Quindi sono diversi, insomma, il pulsante rosso chiama voi, diciamo, comunque la centrale operativa, e invece il pulsante piccolo bianco, sotto al microfono, può essere anche un'ulteriore chiamata alla nostra centrale, ma non con un'emergenza, diciamo, in corso. Abbiamo parlato appunto di, diciamo, di sistemi di allerta per avvertire, per chiamare aiuto. I tempi di intervento, invece, poi, quali sono generalmente, mediamente, oppure se voi distinguete anche il tipo di intervento in base all'emergenza, non so chi vuole parlare. Su questo apriamo una discussione, soprattutto sulle aziende come le nostre, che dicono sempre noi arriviamo immediatamente. Allora, la risposta è immediata. Sull'ultimo sistema che abbiamo visto, l'ulteriore particolarità, che abbiamo anche visto prima, è che può essere gestito anche da remoto. Per cui, se io non mando una segnalazione, ma a qualcuno, parliamo sempre, ad esempio, sull'esigenza dell'anziano, io da centrale operativa posso interrogarlo e sapere dove si trova la persona e attivare anche l'ascolto ambientale. Per questo diventa anche importante la specifica di dire chi gestisce questi sistemi. Guardie giurate, non persone X. Detto questo, i tempi di intervento. Noi abbiamo delle statistiche, le nostre statistiche basate sui dati ci dicono che il tempo di intervento medio delle nostre pattuglie è inferiore ai 5 minuti. Cosa vuol dire però? Perché il tempo di intervento medio viene fatto da un dato sotto il minuto a un dato sopra i 5 minuti, si fa la media. Teniamo conto che noi purtroppo come società private non abbiamo nessun tipo di supporto, per cui dobbiamo rispettare il codice, non abbiamo corsie preferenziali, dobbiamo rispettare il codice della strada, spesso ovviamente prendiamo le multe per gli interventi che abbiamo e questo è un dato medio. Di giorno ovviamente il dato diventa più lungo perché il traffico non ci consente di dire noi accendiamo un lampeggiante altro. C'è però da dire che tutti questi sistemi che abbiamo visto in questo caso hanno un'interazione con le centrali delle forze dell'ordine. Quindi voi collaborate. Ecco, diciamo che l'ulteriore vantaggio qual è? Che la nostra centrale operativa attiva i nostri interventi ma nello stesso tempo attiva anche l'intervento previsto o delle forze dell'ordine o del 118, del 115 in base all'esigenza e quindi diciamo che abbiamo una moltiplicazione di intervento. Poi può capitare che magari noi siamo più vicini perché la nostra macchina di corrente sta passando. Arrivate prima, certo, però insomma c'è anche la doppia corsia, diciamo così. Sì, tra l'altro noi abbiamo, diciamo, è anche un nostro obbligo avvisiamo tutte le forze dell'ordine. Quindi anche in questo caso, a differenza di un piatto cittadino che magari si, beh, in Friuli non tanto perché c'è il numero unico ma quando non c'era il numero unico il piatto cittadino sceglieva chi chiamare, no? Mentre noi avvisiamo tutte. Quindi anche in questo caso si ha il vantaggio che chi è più vicino garantisce l'intervento. Va bene, io ringrazio signor Massimiliano Magon e Carlo Alberto Magon. Abbiamo parlato di sicurezza alla persona. Vi ricordo che se avete degli spunti potete scrivere anche un'email a family at ilfriuli.it. Vi saluto per oggi, vi auguro buona giornata e vi invito a stare ancora con noi perché alle 13 c'è il telegiornale. Buona giornata. Grazie a tutti.